Anche la Certosa di Padura fa ricorso al crowdfunding, lo strumento innovativo di raccolta dei fondi dal basso che sta ormai alla base di molti grandi progetti. Utilizzando la piattaforma derev.com si cercherà di recuperare capitali collettivi al fine di restaurare 5 volumi storici della Certosa. Un progetto di simbiosi importante, emerso durante il premio Best Practices, di cui Confindustria Salerno si è fatta promotrice, incontrando subito il falvore della soprintendenza. Il patrimonio artistico e letterario è uno dei beni più importanti della nostra regione, ha detto Genaro Miccio, e da questo che occorre ripartire. Il mio invito al mondo delle imprese è quello non solo di sponsorizzare i beni, ma di gestirli direttamente. Ora dunque il crowdfunding riguarderà il fondo storico della Biblioteca della Certosa, che annovera circa 2.040 unità, con anche esemplari unici, che solo in parte sono stati restaurati. 40.000 euro il costo complessivo del progetto, che dovrebbe essere coperto con tale raccolta di fondi, e che dovrebbe essere solo l'inizio di un progressivo recupero di tutto il materiale bibliografico, cartaceo e documentario su Pestite in Certosa. I libri scelti per questo primo restauro riguardano la vita e la regola dell'ordine presente a Padula. Uno risale al 500, tre al 1600 e uno al 1700, tutti stampati in Francia, a testimonianza dello scambio con le altre certose europee. I 40.000 euro dovranno servire a rispolverare l'intero fondo librario, a restaurare cinque volumi, a digitalizzarli, esporli al pubblico con supporto di da scalico in apposite vetrine, e a valorizzare i risultati raggiunti. Il tutto dovrebbe avvenire entro sei mesi, con la possibile presentazione del lavoro effettuato nella primavera-estate del 2015.